Il 12 gennaio torna in tv, c'è posta per te condotto, come sempre, dalla simpatica Maria De Filippi Si tratta di un primo appuntamento pieno di emozioni e di ospiti speciali. Ci sarà anche un cantante di fama internazionale, Ricky Martin oltre alla bellissima Belen Rodriguez La prima puntata di C'è posta per te si preannuncia motlo a vincente. Maria accoglierà in studio Ricky Martin, il quale farà una sorpresa ad un suo fan La notizia della partecipazione della star portoricana ha mandato in delirio il pubblico di Canale 5 In tanti non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà.Oltre a Ricky Martin, la De Filippi accoglierà sul palco anche i conduttori di Tussi Cave e Instra cui soprattutto Belen Rodriguez La showgirl argentina sarà accompagnata da Martin Castro Giovanni e Alessio Sacara Insomma, si preannuncia una serata esplosiva.C'è posta per te, nelle prossime puntate anche Albano e Romina Pover Nelle prossime puntate dello show C'è posta per te, Maria De Filippi ospiterà anche Mario Balotelli, e la celebre coppia Albano e Romina Pover Quest'ultimi due, sicuramente, faranno sognare i loro fan.Riuscirà la moglie di Maurizio Costanzo a stracciare la concorrenza di Mamma Ray che, stasera trasmetterà in chiaro sul primo canale l'appuntamento con la Coppa Italia, Bologna Juventus Inoltre, la De Filippi, dal prossimo sabato dovrà fare i conti anche con ora o mai più di Amandos Inoltre, la Chiesa di Sardegna, con la Coppa Italia, con la Coppa Italia, con il clave